SOS, pericolo caduta nei parcheggi di Villa Guglielmi a Fiumicino, è la denuncia del capogruppo della lista civica destinazione futuro Raffaello Biselli che ha dichiarato. Più di qualcuno ha rischiato grosso, solo per un miracolo non ci sono state cadute rovinose con conseguenze anche gravi. Il canaletto di scolo delle acque si è guastato e il risultato è una pendenza fuori norma. Per di più le griglie sono state divelte.